In realtà l'avevo già registrato questo video del genere, però l'avevo registrato ieri che era sabato, ma ero un incognito di sonno e stavo armeggiando con una build, quindi avevo fatto un discorso totalmente sconclusionato. Comunque, parliamo dei prossimi update. Domani escono i due bestioni, quindi parliamo dei due mostri, parliamo di un update che arriva a aprile con il nuovo festival e vabbè, si sa già del maggio che arriverà l'Alatrion, quindi quello probabilmente lo possiamo saltare. Parliamo degli update di questo mese. Marzo, domani, 23 marzo, arrivano i due mostroni. Tutti pensano soltanto al Alatrion Furioso perché il Brachidius per loro non vale e io voglio giustizia per il Brachidius! Scusate. Allora, parliamo del Alatrion Furioso. Il Alatrion Furioso rispetto a quello classico, vabbè, sappiamo, è una variante che è più sempre in modalità... non faccio la battuta perché mi sono stufato di sentirla a chi la fa. Giuro, stavolta blocco si stanto, proprio. La battuta, eccetera, eccetera, sì, ok. È sempre potenziato rispetto al Rachidius normale, non ha la coda, quindi una volta potenziato per disattivare la modalità potenziata o furiosa bisogna attaccare la faccia, cosa che io ho sempre fatto comunque, ma... Cioè, è anche da dire che tutte queste informazioni le ho prese da... il Developer Diary, perché anche perché io, direttamente, Rachidius lo conosco ma non ho mai affrontato la sottospecie, quindi... A detta dai sviluppatori ha anche una presa che è mortale, perché una volta afferrato voi morirete, punto, se non avete un compagno che vi possa utilizzare una polvere vitale, una linfa vitale al volo, perché... Consiste nel essere afferrati e farsi sparare in faccia il suo raggio elettrico, quindi... Che bello. Che ci aspetta proprio, guarda una gioia. E sì, ok. Poi, vabbè, hanno mostrato anche l'armatura, rispetto a quella, questa qua classica, che è un kimono, è sempre di... Diciamo, fattura, fattura di... cinese, giapponese. Però, se non sbaglio, dovrebbe assomigliare più a quella di un samurai, una cosa del genere. Hanno anche detto che le abilità... l'armatura avrà un nuovo abilità set, anche perché queste qua sono stupide. Preveggenza balistica è stato proiettivo, perché le hai rubate a quelle del Rathalos e quella del Ludogran, quindi non mi veniva a dire che era un'abilità nuova, ma vabbè. E se ho capito bene, ci saranno anche nuove abilità. Mentre per quanto riguarda il Brachidios, io lo chiamerò Brachidios, ragazzi, è inutile cercare di farmi cambiare i termini, ormai non riesco a pronunciare in un'altra maniera. So che è sbagliato, ma non ci posso fare niente. Il Brachidios brutale. Allora, per chi non lo conosce, era di una missione speciale di Monster Hunter 3, Ultimate, o 3. No, Ultimate mi pare, non mi ricordo comunque. È sempre lì, è sempre quella generazione, dopo tutto. Allora, rispetto al Brachidios normale, innanzitutto è molto più grande. È il... doppio? Beh, sì, stando agli sviluppatori hanno detto che quando hanno fatto il modello era il doppio più grande del Brachidios normale, quindi... Cazzo. E non solo. Ovviamente il Brachidios brutale ha qualcosa di diverso, oltre alla grandezza. Innanzitutto la sua melma è instabile, ancora più instabile di quanto fosse normalmente, tant'è che esplode istantaneamente. Quindi, yikes. Ma, anche il fatto che quando voi colpite una parte con la melma, la melma cadrà, esploderà, ma quella parte di melma diventerà inattiva. E quindi per un po' potrete colpire quella parte. Il punto è che farà tanti, e ripeto, tanti attacchi ad aria. Non come... probabilmente spammerà più velocemente l'abilità quella che fa il Brachidios normale, ovvero l'esplosione multipla a terra, o quella a lenia. Se non che ha anche un'abilità speciale, o meglio, un'abilità... una mossa che consiste che... Da quello che dicevi, il creatore è basato sulla zona, perché è stata vista usata soltanto all'interno della zona delle terre guida, del vulcanica, dove non c'è sta la lava, praticamente. Non so come si dice qualche numero, è quella zona 5? Non ne sono sicuro. Comunque, apparentemente, all'interno di quella zona, quando siamo arrivati a un certo punto della battaglia, lui attiverà questa abilità che consiste nel rendere innanzitutto tutto il terreno infuocato. E si vede, praticamente. Infatti non si vedrà un cazzo per terra, ragazzi. Io sono sicuro che morirò più per non vedere le esplosioni per terra, che quello che c'è per il resto. E non altro, bloccherà la zona. Esattamente, lui... come si dice? No, bloccare, ma... chiuderà la zona. Letteralmente, non potremo scappare, non potremo neanche usare la sfera del ritorno, potremo solo morire se vogliamo uscire. O lui o noi, praticamente, come ho detto già più di una volta, setta letteralmente un ring. Creerà letteralmente un ring dove o tu o lui, praticamente. Ed è una cosa incredibilmente tremenda da fare. Yikes. Quindi, sarà bello tosso. Sinceramente, per esempio, mi divertirò più col Brachidios che con Ratchet, ma vabbè. Chiedi solo dettagli. Hanno mostrato anche l'armatura di Brachidios. Brutale. Sinceramente, previsco questa qua, che è quella nuova. Hanno detto che avrà sempre la storia di Maestro Istigatore, ma avranno anche delle abilità nuove all'interno di esso, tra cui abilità che non hanno spiegato, però hanno detto abilità che chi usa la lancia fucile troverà molto di suo gradimento. Quindi, probabilmente, sarà una possibilità di avere, me ne so, bonus munizioni speciali o quell'altro. Come si chiama? Ce ne saranno due, bonus munizioni speciali per il fuoco Wyvern e quell'altro. Ce n'è un'altra per gli arpioni, tipo, per l'arpione Wyvern, una cosa del genere. Non mi ricordo. Quindi, potrebbe essere carina come idea, perché secondo me... Poi, parliamo oltre degli altri aggiornamenti. Vabbè, nuovi pendenti, di cui alcuni sono carinissimi perché sono fatti di mostri fatti a lana. C'è tipo un Fugue Pugue o un palloncino Paolomu, che sono carinissimi. Però c'è roba da comprare, quindi non mi interessa, sinceramente. Mi piacerebbe comprarla, però no, perché sto cercando di vedere cosa ci sta. Perché, ragazzi, non avete capito, ma finito un io due, io non so che cosa portarvi sul canale. Vabbè, in realtà c'ho già da portare. Quindi, speriamo se li so ben fretta, sta storia. Ci sarà il nuovo evento ad aprile. Il nuovo festival, che sarà il festival della... Vabbè, ad Astera sarà il festival della primavera. Finalmente potrò avere per il personaggio femminile la cosa da... Da... Da cameriera, da goditore l'Italia, con le fiori. Mentre, in... Chi ha Iceborne avrà il festival della fioritura. Che sarà un misto tra San Valentino, una cosa del genere. Sarà tutto sul classico, da... Chic, ci sarà le rose, la... E il Poggi avrà il coso vestito con le rose. L'assistente avrà un bellissimo vestito a forma di rosa. Rosso. Il pubazionino sarà rosso. L'unica cosa è che non mi è piaciuto il fatto che hanno fatto di nuovo l'armatura... Quella... Per noi. Praticamente. Quella da fioritura. Quella per noi. Che è unisex, praticamente. Simile a quella del... Gran Gala, solo che c'ha le rose, praticamente. Quella, infatti, mi ha un po' deluso. Ho detto, perché hanno fatto la stessa armatura? Dai. Probabilmente hanno fatto questa. Solo che dovete pensare che non ha il cappello, ma tutte rose attorno, più o meno. Il colore è più o meno lo stesso. Hanno fatto unisex. Mi fa un peccato perché ha detto, dai, potevano fare il vestito rosa per le femminili. Però è anche vero che... Cioè, no. Perché non è che il fatto che... Ho detto, unisex non va bene. Non è che una donna non può mettersi i vestiti da tua. No. Però, vorrei la scelta, magari. Però, vabbè. E... Poi, vabbè, hanno mostrato vari pendenti. E hanno mostrato una cosa importante qui. Qua bisogna pensare... Qua bisogna spiegare un po'. Allora, hanno pensato a un aggiornamento multiplo, praticamente, per questa cosa. Ovvero, poter cambiare l'arma. Qui, quando si potenziano, ci sono le ottimizzazioni che sono, praticamente, i potenzialmente aggiuntivi, facendo sì che, vedete, posso cambiare il materiale di che è fatto per aumentare le abilità. Ma ci sarà una cosa aggiuntiva che sarà puramente estetica, credo. Che avrà a che fare con le armi. Tutte le armi, praticamente. Solo che funzionerà così. Eh... Anadotecino si fa le scaglioni, praticamente. Eh... Le prime armi che metteranno saranno quelle che non sono speciali, come queste qua del Daito, dei Katachi. Come quelle che ha un pezzo, come dico io, che non è unica, che c'è un pezzo di bello attaccato. E potrei cambiare, praticamente, che ne so, se hai la spadona pesante, potrei metterci, eh... Tipo la lama della gran mascella, una cosa così, diciamo. Una cosa del genere. E cose così. Ma... C'è anche una cosa importante che deve arrivare. Ovvero... Cool Tarot Grado Maestro. Attenzione. Non intendo dire che metteranno il raid. Hanno detto che... Chi di noi ha ancora, come vedete me, ha ancora mezzo all'inventario, eh... Armi di tipo... Val. Di armi Tarot. Potrà potenziarle, perché hanno deciso di aggiungere la Cool Tarot di Grado Maestro, ma con una missione specifica. Nel senso, non è... Non sarà una missione tipo raid, che bisogna andare in 6, 13, fargli più danni possibili e rompirli le corna per finire la missione. No, sarà proprio una vera e propria missione, sì, semplice, dove dovrete uccidere il mostro. Sarà possibile farla andare a sbattere, colpire la stortilla con la... Qualcosa, morbidire le sue parti con la guardiglio. Ma hanno anche detto che però hanno specificato... Hanno anche specificato il fatto di dover partecipare in 4 alla missione, se ho capito bene. Quindi probabilmente hanno fatto sì, ok, lo stai facendo in una missione normale, ma occhio, è sempre una missione... È sempre una missione... Difficile. Quindi probabilmente, sì, sarà tipo livello difficoltà del Beemoth, probabile. E quindi... E niente, non è mai arrivato messaggio, ma mi sto distratto. E quindi ci sarà anche questa. Quindi hanno detto che se... Chi ha di voi ha ancora, come esempio, le frecce... Le armi tarot, o armi tarot potenziate quelle utili, quelle kjar, queste qua, che erano quelle di livello... Quelle migliori che poteva capitarvi. Potrete ottenere abilità... Potrete potenziarle ulteriormente, così da averle poter utilizzare durante il combattimento, diciamo, durante le missioni... Le missioni di grado maestro. Che è utilissimo, perché, dopo tutto, tutte queste armi, io, da quello che ho capito, tutte queste armi le hanno buttate molti di loro. Ora, non so se daranno anche le armi nuove, nel senso, ti daranno possibilità di ottenere altre armi tarotto. Non credo, perché, se ho capito bene, la fine, cioè, non varrebbe senso, perché per chi non ha ottenuto le armi tarotta, si va a fare... Sta missioni di grado maestro e ottiene armi di rarità 8, o rarità 7, 6, cioè, che è basso il livello, perché le armi di rarità di grado maestro partono dalla 9 al 10... Alla 12, o alla 13? Alla 12, ok, a 12 è il massimo. Quindi lì è una questione di... Quella è una questione di... Il problema è che io avrei sperato che avessero fatto, deciso di mettere... A parte di aggiustare il raid normale. Perché chi viene nuovo dal gioco non si può fare il raid a livello normale, ma si deve fare quello arci temprato e quindi viene catapultato in un apocalisse di fuoco, praticamente. E quindi è un po' peccato, però hanno deciso di fare così, non lo so sinceramente perché, vabbè. E l'ultimo, vabbè, vabbè, vari miscelano, tra cui nuovi pendenti, questa cosa delle armi che hanno deciso di fare, praticamente, che sarà scaglioni. Prima quelle con la pelle, poi faranno proprio le armi uni, quindi praticamente potrete avere... Oltre allo stile normale potrete avere qualsiasi tipo di arma con lo aspetto che vi pare, che è fighissima questa cosa. Ci sarà, probabilmente, hanno detto... Ci saranno, vabbè, anche vari cosi per l'avatar gratuiti. Tipo, ci saranno le nuove pettinature di tutti gli atti per NPC. Del maestro, del sacerdote... Del sacerdote, sì, vabbè. Del comandante, della spavaldo, della assistente serie, della esploratrice, quindi ci saranno tutti quell'altri. E poi ci sarà a marzo l'arrivo della ladro, quindi lì sarà il casino che ci sarà, raga. Ormai sono passato allo stadio della, come si dice, accettazione, quindi... Quello che tirano lì, anche perché a marzo 2021 finisce qua, raga. No, hanno detto fino a 2000... Fino per 18 mesi carichi... 18 mesi dalla pubblicazione di Iceborne. Considerate che a settembre siamo a 12 mesi, un anno. Quindi marzo fino al 2021 è finita qua Iceborne. Non faranno assolutamente una sola espansione perché hanno detto di no. Quindi dovremmo accontentarci di quello che... È già tanto che ci stanno dando roba, insomma. Niente, questo era un piccolo update che volevo fare. Serio, perché l'altra volta non stavo neanche concentrato. Niente, fatemi sapere la volta se siete citati su qualche cosa di particolare. Domani, non so neanche domani come fargli sta storia del Rajen Furioso e del Brachidius Brutale. Penso che farò prima Brachidius e poi cosa? Non penso di farli tutti e due nello stesso giorno perché sarebbe impossibile. Perché sicuramente mi prenderanno tutto il giorno solo uno. Niente, fatemi sapere, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che il carico di iscrivervi al video è tutto il schienerale. Vi ricordo che con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye.